Si stava disquisendo perché oggi dobbiamo fare un dolce, allora meglio col cioccolato, le mandorle, io ho detto a me le date, datemelo in qualsiasi modo, che io mangio tutto, anche se sono in dieta, capito? Quindi insomma Silvia, oggi dobbiamo per forza fare un dolce perché in realtà oggi la dieta non la posso rispettare. Va bene, dai, facciamo un bel cantuccino. Luca ha detto ma dimmi quando la rispetti, però va bene, ne importa, quindi fammi qualcosina di dolce ma leggero, quindi io volevo questi cantuccini al cioccolato, che sono una delle specialità toscane, cantuccini e poi naturalmente una delle specialità che potrete trovare qui da Silvia al ristorante Pizzeria La Torretta qui a San Zeno. Quindi insomma Silvia fammi un po' vedere, illustrami gli ingredienti, le quantità e più o meno i passaggi ai nostri amici naturalmente che ci seguono. Guarda, molto semplice e neanche tanto grassi per la tua dieta. Prendiamo due uova, facciamo la dose per due uova, per i biscottini, per te e per il tuo fidanzato. Grazie, più che altro per lui, anche lui non è a dieta. Allora, abbiamo messo due uova, quindi due etti di zucchero. Sì, benissimo, due uova, due otti di zucchero e due etti di farina. Quindi uovo, zucchero, farina e cioccolato. Il cioccolato lo mettiamo all'ultimo, abbiamo messo zucchero e farina, mescoliamo. Sì, allora in questo caso aggiungiamo il cioccolato. Benissimo. Allora è quasi pronta Silvia la nostra pallina di uova, di zucchero, di farina. Insomma, adesso noi dobbiamo lavorare un po' esatto con le mani, giusto perché almeno così... E va steso in una teglia e formato il lombricone. Benissimo. Ecco qua. Dopodiché lo spolveriamo di farina, che fa con la crosticina classica di cantucci, e lo inforniamo per 20 minuti nel forno a 167 gradi. Ecco qua, cara Silvia, i nostri cantuccini al cioccolato. Vieni Luca, guarda qua che prelibatezza. Guarda qua. Silvia, questi vanno accompagnati con... Vinsanto. Con il vinsanto. No, però prima assaggiamoli proprio il vero gusto, insomma, di come sono venuti. Sono croccanti. Mi fido di te, però naturalmente bisogna essere veritieri, capito? Bisogna far vedere che, insomma, io... Assaggia. Mai ria dieta? No, ma oggi no. Ah, oggi. Vanno bene? Sono veramente buoni. Anche questi li potrei portare a casa? Hai fidanzato, certo. Hai fidanzato, così stasera gli faccio un po' di dolci, un po' così toscani, capito? Allora, scusate, ma adesso sto mangiando. Prendi la parola. Sì, prendo io. Devi salutare, lo sai? No, veramente ragazzi, a parte scherzi. Sono buonissimi. Brava Silvia, grazie Silvia. Naturalmente invitiamo tutti i nostri amici a casa a venirti a trovare qui nel tuo ristorante. Vi ricordo, ristorante e pizzeria La Torretta, località San Zeno ad Arezzo, aperto tutti i giorni a pranzo e il giovedì, il venerdì e il sabato anche a cena. E naturalmente, quando volete voi, chiamate per la domenica dei vostri festi, i vostri eventi, i vostri pranzi in famiglia e non. E la Silvia sarà a disposizione vostra, naturalmente con il marito e tutto lo staff, per farvi un buonissimo pranzo, una buonissima cena. Quello che volete voi. E vi dico che se sono tutte buone i pranzi e le scene, come sono buoni questi cantuccini, beh, io direi che dovrete venire spesso a alzare la cornetta e telefonare. Giusto Silvia? Vi aspettiamo. Grazie mille. Alla prossima, naturalmente. Alla prossima, certo. Alla prossima, dunque, fammi pensare, vengo quando è il giorno della non dieta. Così almeno assaggio. Quindi grazie per averci seguito e alla prossima. Arrivederci.